Ok, camera meglio. Quanto male? Pazienza, perdonatemi. Alla mia destra vedete Ewan McGregor, una delle proprietariste. Grazie, Luca. Penso che qualcuno abbia riconosciuto George Clooney. Che un ex Cavaliere Jedi è finito in un film dove non sa cosa sono i Cavaliere Jedi. Ci sono alcune persone che non conoscono le Star Wars e gli Jedi, e il mio carattere in questo film è uno di loro. E io sono Cristina, da Spanio, e George, ti amo. Lo amiamo di questo film e ciò che è molto divertente, è che c'è una tremenda quantità che è vero. E, come funny come è, sono alcune delle parti dimenticati del film che sono alcune parti. Quindi è quello che ci ha fatto la maggior parte. È difficile da giocare in comodità. E, and the trick of it is that you must try not to play comedy at all, you know. And you know that scenes are supposed to be funny or some moments are funny. But as an actor you always have to play them absolutely for real. If you start trying to play the comedy, it doesn't ... Well certainly not the kind of comedy that we wanted in this movie. There are actors to play the comedy. Non è generale più divertente come questo. Quindi devi cercare di giocare e che la situazione sia divertente. E ciò che è divertente con i nostri personaggi, è che sono davvero seriosamente su quello che stanno facendo. E' la situazione che rende la musica. ... 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 quando ti prendi una grande possibilità e non funziona. E' sempre più embarrassinga quando ti prendi uno reale swing per i fessi e si falle flat. E' un buon try! 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 Cleari!